La professione del commercialista è una professione in continua evoluzione e che ultimamente ha visto degli aggiornamenti importanti anche riguardo al visto di conformità a tutto quello che è il mondo dell'ecobonus, sismabonus o comunque l'apporre l'asseverazione a quelle che sono oggi pratiche che l'utente finale ha per avere sgravi fiscali. È importante che il ruolo del commercialista abbia un intermediario al suo fianco che riesca a trovare e a spingere quelle che sono le polizze assicurative che vadano a tutelare il commercialista nella sua attività. Oggi Plus Ampli Italia Broker ha questa partnership molto stretta con l'associazione nazionale commercialisti e da qui stiamo andando a fare dei tavoli di lavoro e degli studi per andare a tutelare il commercialista nell'ambito della sua attività a 360 gradi sia per quanto riguarda la sua copertura reciprofessionale e tradizionale quindi per quello che è il ruolo del commercialista oggi come è sempre stato sia per quelle che sono le caratteristiche che oggi il commercialista è chiamato a dover assolvere e a quei compiti che oggi il commercialista è chiamato a dover assolvere di natura prettamente relativa al visto e a quelle che possono essere le situazioni particolari che il loro cliente si trova di fronte a dover affrontare. Ecco che la partnership tra associazione nazionale commercialista e Plus Ampli Italia Broker diventa sempre più stretta, diventa sempre più importante ma soprattutto diventa più importante per il commercialista avere a disposizione un intermediario assicurativo che conosca nel dettaglio la sua professione e che possa nel dettaglio riuscire a cucire su misura quella che è la soluzione assicurativa più adatta alle sue esigenze a seconda se faccia attività ordinarie, attività sindacale, attività considerata dagli assicuratori ad alto rischio o attività legata al mondo del visto. Da qui il nostro impegno è quello di trovare per gli iscritti ANC delle soluzioni assicurative sicuramente vantaggiosi in termini di premio ma che non vadano a svilirne quello che è il contenuto della garanzia assicurativa che poi è la cosa importante nel momento del sinistro. Da qui ho sentito una volta dire una frase che dietro una grande azienda c'è un grande commercialista noi amiamo dire che comunque il commercialista ha bisogno anche di un assicuratore che possa conoscere nel meandri la sua professione per andarlo a tutelare al meglio.